Musica te le consentono, curati perché sei maleducato e sei anche incivile, hai capito? Quindi se hai frustrazioni tu hai visto che inventi delle robe che non stanno in gente, impara l'educazione e se vuoi fare il piangino, parla a casa tua, non qui, perché hai detto che son filo giuventino che andava, non c'è, non è vero assolutamente nulla e poi se fossi tifoso di una squadra, non direi, tu hai problemi, tu hai esistenziali, curati. E poi se mi mandi queste telefonate a mezzanotte o qualsiasi...